Ciao bimbi a fili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale, oggi vi porto i preferiti del mese di giugno come sapete i preferiti sono in collaborazione con Giada di Dick and Save Us e vi lascerò il link del suo canale qui sotto in modo che possiate vedere anche il suo video come al solito i nostri preferiti, ovviamente, iniziano con il libro del mese per me è stato difficilissimo scegliere un libro solo, nello scorso mese ve li ho riportati praticamente tutti, perché mi sono piaciuti tutti se avete visto il mio wrap up sapete che ho letto tantissimo e ho letto solo libri meravigliosi a mese di quindi però ve ne ho scelti due non ve ne parlo benissimo, vi dico semplicemente che sono questi due perché comunque nel wrap up ne ve ne ho parlato davvero bene di entrambi il primo è Flaming the Mist dell'Enea Die e il secondo è Ghiccarella di Ashley Postol questo perché è un retelling meraviglioso di Mulan, magia, forza, determinazione della protagonista ho amato tutto, questo perché è il libro che ognuno di noi, ogni geek, ogni nerd ogni fangerle fanboy deve leggerle e quindi assolutamente questi due ma in realtà nello scorso mese davvero ho letto solo bellissime cose questi due forse mi hanno dato un po' più di emozioni insieme alla trilogia di The Young Eats però ecco, diciamo questi due seconda categoria è il film del mese a giugno non ho visto nuovi film ma ho recuperato un film che volevo vedere da una vita ed è quindi il film del mese, anche se in realtà è un po' trash Kong School Highland insomma, il film di King Kong con Tom Hiddleston, Brie Larson non mi ricordo il nome quell'attore che fa Nick Fury non mi ricordo il nome, vabbè comunque, in realtà io volevo vederlo essenzialmente per Tom Hiddleston perché Tom Hiddleston in questo film è che cosa non è, dovrei dire però è un film che deve essere preso per quello che è trash molto, molto trash divertente però, carino non è che mi abbia fatto impazzire ecco, cioè simpatico se avete tempo da perdere ecco, potete vederlo mi dispiace dirlo nel confrontito a Middleston ma non è un film eccezionale se dobbiamo parlare di film di cui ci sono appunto questi super mega cattivoni in forma di King Kong o Godzilla a me non sono mai piaciuti cioè preferisco a questo punto vedere Jurassic Park molto di più però ecco film carino, niente di eccezionale ma carino trash essenzialmente trash essenzialmente va visto per Tom Hiddleston ragazzi è questo comunque il film del mese è quello terza categoria serie tv del Vese ve ne cito due perché sono ricominciate entrambe la prima è Shadowhunters ragazzi a parte il trash che più o meno è sempre presente anche in questa serie tv sta calando il trash stanno salendo le lacrime cosa sta accadendo io ho pianto in due puntate fino ad ora e mi è piaciuto tantissimo mi sta piacendo molto come stanno un po' facendo vedere Sebastian soprattutto quanto è bravo Will Tutor a fare Sebastian bellissimo ma anche e soprattutto mi piace come stiano un po' analizzando il personaggio di Magnus mi sta piacendo veramente tanto poi vabbè amo Alec mi è piaciuta molto la scena alla cortesili finalmente quei due non stanno più insieme i Claymon perché non li potevo più vedere come non li potevo più vedere nei libri amo Jace amo Cleary insomma mi piacciono come personaggi poi ovviamente il trash è sempre un po' presente però sta migliorando e sono molto contenta seconda serie tv Poldark è tornato il mio amato Poldark ragazzi io amo e venero Poldark tantissimo quindi sono stra contenta per ora ho visto solo 5 puntate ora che vi sto registrando il video però mi sono piaciute tutte tantissimo è sempre presente il me è una gioia perché quando mai siamo comunque Poldark però mi è piaciuto molto moltissimo e mi sta piacendo questa terza stagione io ve lo straconsiglio Poldark perché tra l'altro lo finite in un niente la prima stagione ha 8 puntate la seconda 10 e questa anche ne avrà 10 durano 50 minuti l'una più o meno ma scorrono con piacere si vede la meravigliosa Inghilterra e si vede il meraviglioso Aidan Turner e vi dovrebbe bastare questo per iniziare a vedere Poldark perché ci sono certe scene che io che ve lo dico a fare comunque mi sta piacendo tanto mi sta piacendo soprattutto come si sta un po' comportando meglio Poldark perché alla fine della seconda stagione mi aveva fatto incazzare da morire Rossano mi aveva fatto incazzare da morire e lui non si merita De Melza ma nessuno si merita De Melza in questo mondo però io amo la mia personaggio preferito sì direi che ormai è De Melza e odio 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 sempre di più George ed Elizabeth quei due si sono trovati e devono crepare malissimo soprattutto George ma proprio male deve crepare che Geoffrey Baratio leva te non sei niente lui deve crepare male George Warlegger comunque Pollark serie tv del mese più di Shadowhunters devo dire la verità quarta categoria è la citazione del mese in realtà qui sulla mia agenda ve ne ho scritte un po' perché in realtà ne ho una bellissima dalle sfide di Apollo la profezia scura c'è una frase piccolissima che però a me è piaciuta tantissimo ed è non è quanto vivi che importa ma ciò per cui vivi ho amato troppo poi c'è una citazione da Flame in the Mist che in realtà riprende un po' la canzone di Mulan e sarai veloce come il vento e tutto il resto che in realtà è in inglese non riesco a tradurvela benissimo in italiano ma semplicemente dice che deve essere appunto veloce come il vento deve essere forte come il fuoco deve essere silenziosa come la foresta deve essere irremovibile come la montagna e una volta che sarà tutte queste cose potrà essere quello che vuole insomma è un po' una frase che mi ha ricordato appunto la canzone di Mulan Be a Man Make a Man insomma come che diceva Shanga Mulan mi è piaciuta tanto ma soprattutto dopo aver letto Ghiccarella vi volevo leggere quelli che sono i ringraziamenti presenti appunto nel libro Ghiccarella perché sono meravigliosi in questo libro si parla appunto di fandom di geek di nerd e alla fine l'autrice ha fatto una dedica meravigliosa nei confronti di tutti noi e adesso cerco di tradurvela la bella e meglio in italiano quindi voglio ringraziare te te il lettore te che fai cosplay che scrivi fanfiction che disegni fanart che gestisci un forum collezioni fanco pop che devi avere in hardcover quindi in copertina rigida tutti i tuoi libri preferiti e devi avere assolutamente delle cornici per i tuoi poster autografati non abbandonare mai i tuoi sogni non lasciare che nessuno ti dica che il tuo amore è inutile è una perdita di tempo perché se lo ami se non ha un tp un gioco di carte per bambini una serie di libri degli young adult una serie di cartoni che fa felice allora non è mai una perdita di tempo perché alla fine siamo tutti una serie di strani che guardano altri strani e ci chiediamo anche i nostri username quindi come il capitano Carmidor dice sempre guarda le stelle mira e fai fuoco ho amato tantissimo questi ringraziamenti e so che non è una vera propria citazione ma ve li dovevo dire sono bellissimi altro motivo per leggere Giccarella quinta categoria è la canzone del mese dovete sapere che nello scorso mese ma in realtà sta continuando anche a luglio io mi sono fissata tantissimo con le canzoni dell'Hobbit sono un po' tornata nel mood signora degli anelli dell'Hobbit e ho sentito in continuazione Song of the Lonely Mountain ora non mi ricordo il cantante però era la canzone che dopo il primo film c'era durante i titoli di coda mi è piaciuta tantissimo io non l'avevo mai ascoltata per bene perché ascoltavo sempre i Seafire di Ed Sheeran e anche quella del terzo film che è cantata dall'attore che fa Pipino nel Signore degli Anelli però insomma Song of the Lonely Mountain bellissima questa categoria l'oggetto del mese e qui ve lo svelo perché in realtà volevo farvi un book haul di compleanno ma al momento non mi sono ancora arrivati tutti i regali di compleanno non so se nel frattempo l'avrete visto o meno non so quando vedete questo video però vi mostro il mio questo il mio questo il mio Kindle eccolo qua al mio compleanno i miei genitori mi hanno regalato il mio primo i Reader più cover di Van Gogh quindi questo è l'oggetto del mese ho già letto alcuni libri mi sto trovando bene comunque magari fra qualche mese quando l'avrò usato per molto tempo vi farò un video in cui ve ne parlo è un Kindle non Paperwhite non ha luce integrata perché non volevo che comunque spendessero troppo perché alla fine non è che lo uso tantissimo quindi Kindle tipo ottava generazione però senza luce integrata che su Amazon sta circa 70 euro e quindi l'oggetto del mese è questo perché è davvero un cambiamento radicale nella mia vita settima categoria il ricordo del mese a giugno in realtà non ho fatto niente di che se non in realtà farla visitare al mio gatto e da infermiera al mio gatto e andare al mare però un bel ricordo è stato il Big Geek a Bari inizio giugno sono stata il 10 giugno al Big Geek è stato molto carino perché ho incontrato Alessia Coppola l'ho fatto l'intervista siamo state a presentazione ho incontrato Anita di Anita Bucca anche alla sua presentazione sono stata per Everlasting e quindi Wolfheart di Alessia Coppola ma soprattutto ho incontrato Teresa Radice e Stefano Turconi che sono autori Tu Nue e Bao e anche Disney che ho incontrato perché in realtà ho regalato a mia carissima amica Antonella l'avrete vista in qualche video la graphic novel il Porto Pevito e l'hanno autografata io come una scema pensando a lei mi sono scordata la mia Viola Giramondo però loro mi hanno fatto un disegno carinissimo che ora vi prendo eccolo qui su un foglio a parte infatti poi l'ho attaccato su Viola Giramondo perché io me l'ero scordata come una scema però me l'hanno fatto e sono stati carinissimi e niente questa è una bella esperienza penultima categoria lo sclero del mese ragazzi è stato rinnovato Sense8 questo è lo sclero del mese a giugno dopo un paio di mesi di lotta è stato rinnovato Sense8 che poi rinnovato è una parola grossa avremo uno speciale di due ore in cui finalmente la serie avrà una fine e io sono troppo contenta quindi questo è assolutamente lo sclero del mese Sense8 un finale decente per Sense8 non è ultima categoria la crush del mese in realtà è sempre stata presente molto in questo mese proprio perché appunto sono rimasta fissata sia con Pirati dei Carabini che con il Signore degli Anelli Orlando Bloom in particolare Orlando Bloom come Legolas perché comunque io lo amo tantissimo come Legolas tantissimo quindi una delle due crush in realtà di questo mese è decisamente Orlando Bloom come Legolas un'altra essendo tornato Poldark è tornata la mia crush per Aidan Turner che in realtà come al solito non è mai andata via però è Aidan Turner lo amo lo amo tanto è troppo bello ragazzi troppo bello poi tra l'altro lui nell'Hobbit fa anche Kili quindi tutto torna tutto torna questi i miei preferiti di giugno è stato un bel mese belle letture soprattutto belle esperienze al Big Geek e spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere qual è stato il vostro libro del mese le vostre esperienze che avete fatto a giugno finalmente è finita la scuola sessione estiva e quant'altro vi ricordo che qui vi lascio il link di Giada i link dei libri che vi ho citato e tutti gli altri miei social noi ci vediamo al prossimo video ciao